e questa un tempo era una piccola creatura ed è molto vecchia oh sì roli molto molto vecchia ci vogliono milioni di anni per trasformarsi in un fossile ciao danni abbiamo trovato un fossile esistono molti altri fossili oh sì norri i fossili possono formarsi con ogni genere di creatura che abbia vissuto tanto tanto tempo fa tipo quelle che vivevano nel mare e quelle che vivevano fuori dal mare quelle piccole che volavano o quelle grandi che camminavano quelle grandi che camminavano? stai forse parlando dei dinosauri? esatto Betty esistevano dei dinosauri di ogni forma e dimensione un po' come noi visto questo è un bettisauro un norridattilo un tirannos roly rex un twitcher tectopo un happy gattore e poi cos'è successo? siamo arrivati noi! sì! gli uomini delle caverne! no roly lupetti delle caverne guardate c'è milly no quella è una tigre dai denti a sciabola guardate c'è elly no quello è un mammut lanoso assomigliano tanto a milly ed elly ma sembrano anche tanto diversi esatto norri molte cose erano diverse tempo fa io ho fame dov'è la cucina? beh qui non esiste ancora roly ma come cuciniamo il cibo? wow gustoso tug ha acceso un fuoco sì tug i lupetti delle caverne dovevano fare tutto quanto da soli costruiamo gli uomini degli uomini finestra io ho fatto un tavolo io ho fatto una sedia un piatto noi abbiamo fatto una forchetta molto bene ma i lupetti delle caverne non si limitavano a questo inventiamo altre cose ancora arte letto calcio ciotola solino ruote i lupetti delle caverne hanno inventato cose nuove fino al giorno d'oggi lupetti delle caverne in un luogo un luogo un luogo il luogo un luogo d'oggi hey d'oggi Grazie a tutti!